ciao a tutti e benvenuti e bentornati al mio canale le più in cucina io sono jessica e lui è akira in questo canale ci occuperemo di ricette di cucina sia per noi che per i nostri amici di casa andremo dal dolce al salato dalle più complesse alle più semplici ma mi raccomando iscrivetevi lasciate un bel like commentate e attivate la campanella per il prossimo video e adesso che mi dice akira partiamo